Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e un saluto, ci sono venuti oggi a trovare i nostri ospiti Paolo Sassanelli e Francesco Colella, benvenuti, siamo qui per presentare due piccoli italiani, allora la prima domanda, non è che adesso entrano due piccoli italiani No, 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 per carità, è il titolo del film. Mi è subito venuto, allora oggi preparando un'intervista sono andato un po' ad informarmi, ovviamente un po' ad aggiornarmi sul curriculum del regista Paolo Sassanelli. Paolo tu hai un curriculum televisione e cinema, cioè un curriculum lunghissimo e hai quasi 30 corti all'attivo, come mai hai deciso, quasi circa più o meno, come mai hai deciso adesso di, insomma, mi sono sorpreso, ho detto ma come mai, questo è il tuo primo film, il tuo primo lungometraggio di lungometraggio, però ho girato già due corti che ho scritto e diretto e due corti che mi sono stati commissionati, quindi l'arrivo alla regia, l'approdo avviene un po' di anni fa, una decina di anni fa, con il primo cortometraggio guerra che era la storia di mio nonno e di mio padre, è molto divertente, ha avuto un sacco di premi in tutto il mondo, quindi proprio per questo mi è sembrato logico e giusto, senti, ora provo a farlo un lungometraggio, otto anni, tosto perché è diverso rispetto a fare un cortometraggio, otto anni per scrivere, riscrivere, trovare la produzione, trovare due soldi, trovare le, mamma mia, è un esordiente, è un esordiente, dice quasi quasi torno a fare i cortometraggi che è più facile, scherzo, in realtà fare l'attore è più comodo, però io mi diverto tanto a far regista, mi diverto nel senso mi piace, mi piace, credo che voglio continuare, spero che i risultati sia quelli di corti che quelli di lungometraggio, questo sicuramente fa molto ridere, una bella commedia on the road, raccontamela tu innanzitutto, raccontami la trama. La trama è la storia di due disperati che vivono in una specie di clinica per malati psichiatrici in un paesino della Puglia, sono dimenticati proprio, dimenticati, uno pensa di avere una vita decente, in realtà i problemi suoi sono abbastanza grossi, l'altro che evidentemente ha problemi, tutti e due sono piccoli, nel senso, tutti e due sono due bambini, nel corpo di quasi cinquantenni, un bambino di otto, vabbè tu ce l'hai un po' di meno. Quanti? Quarantaquattro, l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso. Quasi cinquantenni, portiamo rispetto. Il mio personaggio è come se avesse otto anni e il suo ne ha undici. Dodici? Vabbè, quasi dodici. E' preadolescente. Esatto, è preadolescente e quindi non hanno famiglia, sono orfani tutti e due. Uno è orfano da quando è bambino, anzi da quando è bambino è caduto qualcosa lì, in quell'età che aveva 3-4 anni. L'altro non sappiamo quasi nulla e un avvenimento violento anche li costringe a scappare, perché li vogliono separare. Se separi una persona da un'altra che non ha nulla, non ha famiglia, naturalmente è una tragedia. Per evitare questo scappano. Da quel momento comincia il film. Comincia questo viaggio lunghissimo. Perché loro saliranno, e qui lo diciamo, diciamo alla tv del Corriere dello Sport, salgono su un pullman di una squadra, di tifosi di una squadra di calcio tedesca, che è il San Paoli, che io conosco. Come ti ha venuto in mente il San Paolo? È mia moglie di Hamburgo. Io sono andato a vederli. Sono meravigliosi, guarda. Mi diceva un mio amico che ultimamente è stato Francesco Amato, è stato a presentare un film ad Hamburgo è andato a vedere il San Paolo. Hanno perso 4-0 in casa e alla fine hanno fatto il giro del campo con tutti i tifosi che gli dicevano. C'è una squadra meravigliosa. Come l'Italia proprio. La stessa atmosfera. La stessa serenità. E quindi saliranno su questo pullman, questi li accolgono e li portano nel nord dell'Europa. Ma Francesco, com'è stato? Racconta anche il tuo di personaggio. Tra l'altro, insomma, che raccontami di questo viaggio, che insomma parte dalla Puglia, passa per l'Olanda e arriva fino in Islanda. Insomma, quindi attraversano tutta l'Europa. Guarda, il viaggio, quello che è successo e che succede nel film, più o meno secondo me corrispondeva a quello che succedeva nel fare il film. Cioè è stato un viaggio anche fare il film. Un'avventura bellissima, intensa, disordinata. Ogni giorno pensavamo di non riuscire a andare avanti. Noi definivamo questo film. Sì. Il primo esempio di cinema in salita. Di cinema in salita. Però devo essere sincero, ci capitava anche nei momenti di scoraggiamento di avere in mano qualcosa di prezioso, di molto fragile, di molto delicato. e poi se andavamo avanti, poi siccome Paolo naturalmente si schermisce, però è un poeta, non lo sa, e il suo bello è che non lo sa, cioè in qualche modo andando avanti, insomma eravamo naturalmente ispirati. E quindi anche i nostri personaggi in qualche modo, non credo che abbiamo fatto delle costruzioni attoriali e ci trovavamo bene insieme e c'era... Non c'è, perché in realtà poi in questo film non è che c'è soltanto la comicità, c'è anche, io ho trovato anche molta tenerezza, anche nei personaggi, no? In questa loro anche delicatezza, in questa loro fragilità. È bello che poi quando stanno insieme invece sono una forza vera, insomma, riescono a trascinarsi l'un con l'altro. Paolo li ha voluti chiamare due piccoli italiani, ma hanno delle anime grandissime. Loro non sono consapevoli, non sono stati abituati a ricevere amore, affetto e comprensione, tutt'altro. Quando a un certo punto si affacciano al mondo, cominciano ad avere un'educazione sentimentale, che è originalissima, che ha un colore tutto suo, ed è bellissima sta cosa. Come si diceva appunto, sono migranti, loro sono migranti. E questo, io ci tengo a dirlo oggi, perché sembra una cosa strumentale. Invece non è così, perché per educarsi sentimentalmente, perché i sentimenti si apprendono. Bisogna sentirsi un po' migranti, perché quando si considera l'Italia a casa propria, a un territorio privato, come fai a imparare i sentimenti? Quindi è inutile liquidare questi discorsi col buonismo, perché costa fatica accogliere, comprendere, capire profondamente. E questa fatica vale la pena che sia affrontata. Quindi è molto più facile di essere, non so come spiegarmi, razzisti, perché è una parola di cui non bisogna più avere paura. E questi due personaggi, per esempio, sono stati, sono degli espulsi dalla vita, delle persone che vivono sotto un potere che li massacra, che magari è il potere che viene impersonato qui in un capo infermiere. Però sono come due Pinocchio, non so come spiegarmi. Sì, 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 sono... è la tipica coppia del cinema, no? Ci sono le coppie famosissime del cinema, non voglio naturalmente accostare noi due a qualcosa di... No, non siamo famosissime, neanche ricchi. Siamo poveri però, come Stagliolo, Stagliolo sono morto in povertà. Noi però ci manca la parte, quella lì della vita in ricchezza, quella è una decadenza. Noi abbiamo ancora affrontato quel momento di ricchezza. Però sono due... è la tipica coppia, capito? Sono gli scemi. I due scemi. Uno che invece pensa di non esserlo, l'altro che è consapevole anche della sua... dell'essere scemo, tra virgolette. E in realtà sono... sono due poeti involontari della vita. Proprio involontari. Hanno uno sguardo pulito sulle cose. Hanno uno sguardo talmente pulito che poi riescono ad essere anche feroci, ma come i bambini, non so come spiegarmi. Nel senso che riescono a da male... E sono tipicamente italiani. Questo fatto di sottolineare che sono due piccoli italiani. in fondo, sì, è accettare la nostra dimensione anche di fragilità. Sì, anche perché troppi italiani si sentono grandi ultimamente. Per cui è meglio sentirsi... Si sentono grandi anche per colpa dei social, secondo voi. Quanto è questo... insomma, questa presenza sempre più massiccia, di comunicazione sui social network? Prima io sono cresciuto a Milano, per questo ti dicevo prima. Io ho visto giocare Gianni Rivera. No, no, ci arriviamo, ci arriviamo. Io a Milano prima c'era la Galleria Vittorio Emanuele, dove i gruppi di anziani, ancora forse succede, non lo so, che in realtà non erano anziani, erano quarantenne, e si formavano questi capannelli, ma tanti, in tutta la lunghezza della Galleria Vittorio Emanuele, e si parlava dell'argomento del giorno, o dell'argomento che in quel periodo era più interessante, stava sulla bocca di tutti, e ognuno poteva intervenire. Non c'era mai il litigio, c'era fervore, ma non si picchiavano, non arrivavano mai a fare bocca, però c'era sempre rispetto, e si discuteva. Cioè, tutti si sentivano un po' giornalisti, un po' scrittori. Questa cosa è stata riportata sul web, e quindi nel social, però manca il contatto visivo. Quello è importantissimo. È fondamentale, quindi io quando sto dietro una tastiera, nessuno mi vede, ma io ti scrivo quello che mi passa per la testa. Prima di dire una cosa che poteva essere anche offensiva, bisognava edulcolarla, farla passare attraverso il linguaggio, senza dover ferire per forza. Adesso si ferisce tanto, tanto non costa niente ferire. Perché prima se ferivi una persona, quell'altro poteva dire, oh, beh. C'era quasi la risposta fisica, volendo anche, invece qui... Ma tra l'altro, molte volte si diventa quel che si dice. Cioè, a furia di scrivere cose che hanno a che fare, perché i social sono una grandissima risorsa, ma possono diventare delle cloache. È un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio. Quando a un certo punto tu trovi sui social espressioni di violenza, auguri di morte, espressioni razzistiche, vere, perché adesso io non voglio appesanti l'atmosfera, però secondo me da oggi bisogna chiamare le cose col proprio nome. L'Italia è infetta da un fenomeno in gestazione da tanti anni, che adesso sta esplodendo con grande violenza. Si chiama razzismo. E bisogna ricominciare a riconoscerlo. E questo qui lo vedi soprattutto nei social. Ci sono delle dichiarazioni che sono inquietanti. Ma la cosa più pericolosa, secondo me, è che intanto appunto c'è una gran bigliaccheria, perché tu non, come dire, non hai un'identità. Ma soprattutto, dico, si diventa quel che si dice, perché ha furia di scrivere queste cose. Poi uno ci crede davvero. La stessa persona è lo scrivere e diventi una brutta persona. Quando ci parli con queste persone? Perché tra l'altro non è che gli puoi dire manprataffana frittata, come nella galleria Umberto I, capito? Perché il rischio della figura di merda non è male. Cioè, capito? E quindi... No, ma è questo. Quando poi ci parli veramente con queste persone, viene a contatto visivo e ascolti la sua voce e loro ascoltano la tua, tutta quella roba di odio, si dissolve nel nulla. Perché gli umani rimangono sempre esseri umani. Non possono trasformarsi in macchine. È vero. Però stavolta non si dissolve nel nulla, purtroppo.